Buongiorno a tutti, sono Marco Mencoboni di Cantarlontano Festival e sto visitando l'Università di Ancona in vista dell'evento che noi faremo il 14 maggio. Ho visto tutti gli spazi e ora sto entrando nel parcheggio sotterraneo. Devo dire che è uno spazio molto affascinante, che tra l'altro suona benissimo e quindi che è abituato alle nostre esibizioni nei luoghi più impensabili. Se riusciamo a creare le condizioni per realizzare un concerto all'interno di questo parcheggio, bene, penso che non l'abbia fatto mai nessuno quindi saremo noi i primi a farlo. Vi aspettiamo.